Vittoria per il morale. Corrado Cotta aveva chiesto un Varese non bello ma pratico. I biancorossi visti nel 2-1 sul fanalino di Coda Pondonaz hanno risposto a pieno questa esigenza, portando a casa un match decisamente sottotono. Zero occasioni da rete nei primi 45 minuti. A sbloccare la sfida ci ha pensato il solito Stefano Banfi, sinistro dal limite deviato imparabilmente da Orlando che abbia fatto il suo portiere. Tre minuti dopo lo stesso Banfi, autentico mattiatore del match, ha deciso di riprendersi a tutti gli effetti in goal, sparando con il destro un boli dall'angolino. Poi solito Varese, un paio di ripartenze sprecate ed errore difensivo che ha nascato il gol di Rapai. Spavento finale ma tre punti in cassaforte con vista su Sanremo.